Il primo appuntamento della stagione con Baschettando che ritorna, una stagione in cui ci auguriamo, non diciamo niente, possa essere finalmente l'anno della festa in Casa Paffoni. Debutiamo qui a Simpro Pub a Pallanza in uno scenario davvero spettacolare. Al mio fianco abbiamo il sindaco di Verbagna, la padrona di casa, Silvia Marchionini. Ciao Silvia. Ciao, grazie per l'invito. Grazie a te. Insieme a lei il direttore sportivo della Paffoni, Michele Burlotto. Ciao Michele. Buonasera a tutti. E l'uomo che ha preso le redini del comando, Marco Padolazzi. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Marco cominciamo proprio da te. Dunque sono passati quasi due mesi dal tuo insediamento. Un primo bilancio a 360 gradi. Abbiamo lavorato molto ovviamente in questi due mesi. Un po' era abbastanza prevedibile per insediarsi in questo nuovo ruolo. c'è stato da costruire la squadra, ci sono stati tanti adempimenti, insomma sono stato un po' travolto da questo impegno che mi sono assunto insieme a mio fratello Carlo Alberto. Abbiamo allestito la squadra, è estremamente competitiva, stiamo lavorando anche per reperire le risorse che ci permettono di sostenere questo progetto, insomma sistemando un po' di situazioni anche a livello organizzativo. insomma per me è tutto nuovo, quindi ogni situazione è stata diciamo vagliata, molte cose sono ancora in corso, ci stiamo lavorando su. Ti chiedo questo, poi coinvolgiamo Silvia e Michele, cos'è stata la cosa che ti ha fatto più piacere nel corso di questi due mesi e la difficoltà maggiore che hai incontrato? Beh, delle difficoltà credo di averne già parlato nell'intervento di prima, ho dovuto investire veramente tanto tempo in questa nuova iniziativa, di più di quello che mi aspettavo e quello che mi ha fatto piacere. Anche questo me lo aspettavo un pochino, sono sempre stato tifoso di questa realtà, però diciamo essere inserito all'interno, stare in mezzo ai ragazzi, vedere la squadra che veniva costruita giorno per giorno, poter confermare molti degli elementi che si sono dimostrati così validi nel campionato scorso, questa è stata una cosa che mi ha reso molto orgoglioso e che mi è piaciuta molto ovviamente ed era anche quello che mi aspettavo. Chiedo a Michele, com'è Marco Padurazzi da Presidente, poi chiedo a Silvio invece, cosa può dare un imprenditore come Marco con la sua famiglia in un progetto che guarda anche al futuro? Mi fai una domanda impegnativa, perché io sono regato a Marco Padurazzi, perché è sempre stato un tifoso per noi importante, un tifoso illustro, un tifoso eccellente per noi e devo dire che una caratteristica che io auspico e che sogno sempre che si possa realizzare è che tutti quelli che lavorano per Fulgor siano appassionati di Fulgor, come lo è il nostro Presidente, ma soprattutto appassionati di pallacanestro, perché hanno una visione critica di tutto quello che avviene. Essere solo tifoso Fulgor è un legame forte, un legame che ci inorgoglisce ed è un legame importante, ma se uno è anche appassionato di pallacanestro come Marco c'è uno spirito critico che aiuta a crescere. Non sono io a dover tessere lodi nei confronti del nostro Presidente, ma essendo un imprenditore conosciuto e importante per la nostra zona ha portato sicuramente una ventata di, prima di tutto, organizzativa importante, perché si è messo di prima persona, come lui ha detto prima, a gestire proprio l'amministrazione della nostra società e poi indubbiamente avere uno sponsor come Paffoni e un Presidente come Marco Padulazzi nella nostra zona mette la Fulgor in una situazione di stabilità, di immagine e di forza veramente importante e tutto il mondo Fulgor non finirà mai di ringraziare il signor Ludo Paffoni e non finirà mai di ringraziare il dottor Marco Padulazzi. Sì, anche per uno che vede dall'esterno e leggi in nome Marco Padulazzi come Presidente della Fulgor, credo che sia anche un messaggio importante. Viviamo tempi in cui è necessario essere audaci, però questa qualità non si trova con grande frequenza negli atteggiamenti, negli attività economiche in questo territorio. Per cui sapere che Marco Padulazzi, che io ho visto gioire, farei il tifoso quasi ultra sugli spalti al Palavattisti, prendersi una responsabilità di questo tipo con poi la voglia di fare, di migliorare una realtà già solida come quella della Paffoni è sicuramente qualcosa che rassicura il mondo della pallacanestro che naturalmente ha nella Paffoni Fulgor l'elemento di punta in questo territorio attorno a cui anche costruire un avvicinamento allo sport in generale, alla pallacanestro che è sempre utile per i ragazzi e i bambini. E poi vuol dire anche che c'è la possibilità per vivere altre esperienze di questo tipo nel nostro territorio dove gli imprenditori si mettono in gioco e provano anche a dare un contributo positivo per la crescita del, in questo caso, in senso sportivo, ma in generale di tutto il territorio. Direi Marco, poi Michele, poi di nuovo Silvia, che la presenza del Sineco di Verbagna qui non è casuale perché una delle prime iniziative, uno dei primi progetti messi in piedi dal nuovo Presidente è anche quello di coinvolgimento ulteriore da parte del territorio, ci sono stati dei confronti e dei progetti in essere e ratificati con l'amministrazione comunale di Omenia, c'è un rapporto quotidiano quasi con il Sindaco di Gravellona Gianni Morandi per il discorso relativo al palazzetto e c'è un rapporto molto forte con la città di Verbagna che va avanti da oramai 14 anni ma che si vuole ulteriormente intensificare. Marco, Michele, Silvia. Ma sì, lo so di aver già detto in molte sedi di aver fatto questo ragionamento, viviamo in una provincia di confine chiusa con uno sviluppo economico problematico sotto tanti punti di vista, una parziale deindustrializzazione, fortunatamente il turismo che è il settore nel quale Opero continua a andare bene, però le risorse sono limitate. Avrebbe poco senso continuare un progetto che si basa su una sola delle località. Lo dico molto spesso, dobbiamo cercare di concentrare le forze e convogliarle tutti verso un progetto unico. Mi coinvolgi in questo discorso che ovviamente è al centro del quale c'è il palazzetto di Gravellona che è stato costruito e realizzato per giocarci a basket e quindi siamo ansiosi di poter andare lì non solo per avere una struttura nuova. Lo dicevo prima al sindaco, il palazzetto, il Palavattisti, è una struttura assolutamente adeguata per le nostre esigenze, salvo magari manca un'area VIP o un'area dove poter fare delle pubbliche relazioni, dove gli imprenditori possono incontrarsi tra di loro. Però dal punto di vista dell'accoglienza del pubblico, della visione dello spettacolo è una struttura che va benissimo per le nostre esigenze. Quello che è sbagliato e che non è funzionale le nostre esigenze invece è la posizione perché siamo una società di Omenia. Giochiamo a Verbania, a Intra che buttarlo via sono 20-25 minuti di macchina. Adesso ci mettiamo pure una proprietà di Stresa per confondere ulteriormente il quadro, però se noi riusciamo ad andare a Gravellona e coinvolgere veramente tutta la provincia in un progetto provinciale sicuramente possiamo garantire un futuro a questa realtà. Mi chiede sul ruolo anche delle amministrazioni e in particolare al modo qui quella di Verbania. Verbania, come tu hai detto, è ovvio, è casa nostra sotto un punto di vista tecnico-sportivo perché 14 anni all'interno di un impianto e in una città sono una storia, fanno parte della storia della Fulgor e noi devo dire che siamo sempre stati accolti bene e da parte dell'amministrazione comunale, da parte del sindaco di Silvia siamo sempre stati veramente aiutati, aiutati in un percorso che all'inizio non era sicuramente facile perché giocare fuori casa sia per gli omegnesi e per tutti quelli che ci seguono, farli immigrare a Verbania è stata un'operazione all'inizio non facilissima e poi anche a conquistare un pubblico a Verbania che adesso secondo noi è visto le statistiche, è visto dati alla mano, è un pubblico che cresce di anno in anno, è un pubblico che si è avvicinato alla palacanestro, famiglie, anche tanti ragazzini che vengono a vedere questa realtà e mi unisco alla filosofia del nostro Presidente che indubbiamente piccolo il territorio, progetto importante, unire tutto e fisiologico, non è una strategia, non è un'utopia ma è il giusto finalizzare questo progetto di carattere provinciale assolutamente. Silvia cosa rappresenta la Fugur per Verbania? Perché giustamente diceva Michele è passata quasi un'era geologica, un'era sportiva sicuramente, ma un'era geologica sportivamente parlando perché 14 anni sono tantissimi. Un elemento di unione tra comuni in un territorio che si sa è fortemente frammentato e all'esterno questo non viene capito, quindi che la Fugur sia domenia, giochi per ora a Verbania dove ha conquistato un pubblico affezionato il sabato sera, due volte al mese, è un modo per trascorrere una serata in compagnia di tanti amici e godendo di uno spettacolo emozionante come quello della Palacanestro e della Paffoni. Dopodiché il palazzetto a Gravellona, baricentrico rispetto alle due realtà, è sicuramente qualcosa di positivo. Più messaggi in questa direzione di mettere insieme le forze e di unire anche le squadre, parlo anche per altri sport, sono utili perché altrimenti la tenuta anche economica, oltre che la capacità di avere persone, dirigenti che mettono il loro tempo e il loro impegno in sforzi di questo tipo, sarà per noi un elemento più difficile da raggiungere. Se riusciamo ad aggregare le realtà a partire da quelle minori, a partire dai bambini, chi gioca pallacanestro a Verbania vuole andare a giocare alla Fulgor con progetti di collaborazione che ci sono stati in questi anni, proviamo anche magari a intensificarli di più, questo è utile a tutti noi e per il futuro delle nostre città. Poi affronteremo chiaramente l'aspetto agonistico perché sabato si comincia e si comincia subito con un big match contro Piombino, però su quello che diceva Silvia magari Michele facciamo un po' di chiarezza e il punto di quello che si è fatto nel corso di quest'estate, la collaborazione lanciata, annunciata con la nuova realtà del basket a Domodossola con la cestistica, il lavoro fatto nel settore giovanile che tra l'altro ha avuto un momento importante proprio sabato scorso con l'organizzazione del torneo al centro commerciale delle isole per Coppa e poi comunque una collaborazione che va avanti seppur in modo diverso con la Virtus. Noi dobbiamo tenere presente una cosa che tutti i valori aggiunti che abbiamo, il management, il main sponsor, la storia della Fulgor per questa zona sicuramente sono le note importanti, i fiori dell'occhiello di questa società, ma non dimentichiamoci una cosa che come obiettivo noi abbiamo fare conoscere il più possibile la pallacanestro e dobbiamo anche essere un po' obiettivi e anche umili perché la pallacanestro non è uno sport in questa zona conosciutissimo e vogliamo veramente cercare come rubando anche un'osservazione del sindaco, uno spettacolo così piacevole se vuoi, se conosciuto dobbiamo farlo conoscere e dobbiamo farlo conoscere anche alle famiglie, ai ragazzi per fare in modo che questi ragazzi lo praticano, lo conoscano e possano diventare magari giocatori, dirigenti o semplicemente appassionati del futuro di questo sport. Abbiamo investito molto perché lo sforzo che abbiamo fatto nel costruire lo staff tecnico del settore giovanile è uno sforzo veramente importante, abbiamo tre allenatori professionisti che si occupano di uno gestire della parte tecnica in essere, ma avranno anche come missione diffondere il più possibile nella provincia questo sport e il messaggio che Fulgo vuole dare. Ci inorgoglisce, devo dire la verità, il rapporto con Domodossola perché Domodossola con l'avvento del Presidente Santopolo e di tutto il suo staff dirigenziale hanno avuto un'apertura tecnica e un confronto con noi e la disponibilità di partecipare ad un progetto auspicato dal nostro Presidente è veramente importante e realmente costruttivo. È una dirigenza giovane, è una dirigenza dinamica e siccome sai che io sono ripetitivo, hanno la stessa caratteristica del nostro Presidente che è quella di essere appassionati della loro realtà, di Domodossola, ma sono appassionati di pallacanestro. Per diffondere una passione, per diffondere un'emozione devi essere per primo tu emozionato nel farla, nel condurla e nel vederla. Perciò ringrazio di cuore Domodossola per l'apertura che ha avuto e per il lavoro istancabile che da giugno scorso ad ora stanno producendo per raggiungere gli obiettivi comuni. Poi c'è il discorso relativo alla campagna abbonamenti, sabato abbiamo detto che c'è la prima in casa, numeri già confortanti, già più di 200 teste sottoscritte, tra l'altro proseguono anche le agevolazioni per le società amiche, quindi proprio per la cestistica, anche per i genitori dei bambini della Vitus Verbagna, no Michele Correggimi se sbaglio? Certamente, ci sentiamo sempre con il Presidente Grieco, con Fabrizio Greco, il nostro rapporto è sempre un rapporto di stima ed amicizia, si è interrotto il rapporto tecnico, però il rapporto di darsi una mano e di veicolare quelle che sono le nostre realtà in essere e non c'è stato alcun dubbio di mantenere una scontistica particolare per gli iscritti a Virtus e poi dopo il futuro con una continuità di rapporti e di confronti non si può escludere che possa diventare ancora attivo sotto il punto di vista tecnico. Marco, vediamo l'aspetto agonistico e l'aspetto tecnico della prima squadra, si comincia sabato, è chiaro che è oggettivo, la Fugor sono anni che parte con i favori del pronostico o tra le prime due, quest'anno alla luce di un mercato veramente molto molto importante, delle conferme degli arrivi e alla luce anche della composizione dei gironi c'è la sensazione, poi speriamo di non essere smentiti a maggio, che però possa davvero essere un anno buono. Sì, sicuramente la squadra come dicevo prima è stata allestita con grandi ambizioni, personalmente non sono assolutamente scaramantico, ma è inutile pronunciare parole roboanti che tutti si vogliono sentir dire. Abbiamo un progetto importante, abbiamo inserito alcuni elementi veramente di primissima fascia nel nostro campionato, dal mio punto di vista abbiamo corretto qualche piccolo neo che avevamo lo scorso anno, confermando l'ossatura della squadra nei suoi elementi che più avevano dimostrato di essere all'altezza della situazione, non sono così esperto sinceramente per addentrarmi sulle squadre concorrenti, si sente parlare di alcune squadre toscane, Lucca, Firenze, Piombino, già la prima squadra che incontreremo sarà un test probante per vedere veramente qual è il valore della nostra squadra. Certo va un po' parametrata la cosa anche all'interno dei, sapete che ci sono quattro gironi, diciamo, noi siamo in questo girone con le squadre toscane e le squadre, ahimè, siciliane, abbiamo avuto anche questa notizia non propriamente gradita, è intuibile da tutti che dal punto di vista logistico tre trasferti in Sicilia ce le saremmo evitate molto volentieri, sia per l'impatto economico ma anche perché avevamo costruito un po' di rivalità con alcune squadre lombarde che ci sono state sottratte dal nostro campionato, questo voleva dire i nostri tifosi che andavano in trasferte accessibili, Pavia, Vigevano, Varese, San Giorgio, squadre con le quali avevamo una sanissima rivalità sportiva e nessuna credine di nessun tipo, per l'amor di Dio, e ci hanno messo queste, diciamo, incognite di queste società siciliane, vabbè, però... A gennaio fioriscono i mandoli, mi hanno detto nella Valle dei Tempi. Infatti, avremo tutte le trasferte nel 2020 e quindi vedremo se riusciremo a abbinare un po' di turismo anche all'aspetto sportivo. Chiedo a tutte e due l'impatto, differenze magari non è neanche corretto chiederle, però l'impatto con il nuovo allenatore, qual è stato? Tuo e anche poi di Michele? Allora, dal punto di vista tecnico non voglio esprimere nessun giudizio perché non ho la competenza per farlo. Sono un tifoso appassionato da molti anni di questa realtà, però l'ho sempre vista dagli spalti. Poco negli allenamenti, poco all'interno delle dinamiche, ammesso che abbia le competenze per poter giudicare l'operato di un allenatore, non ce le ho. E quindi lo posso giudicare solo dal punto di vista umano. Per certi versi, per la grinta, per la determinazione che ha, è simile all'allenatore che avevamo lo scorso anno, però dal punto di vista tecnico lascerei a Michele le differenze perché non potrei dire delle cose credibili e competenti. Michele, analogie e differenze oppure l'impatto, cosa ha dato, cosa sta dando Giorgio Salvemini alla Paffone. È chiaro che il 3-Dugnome, il filo che lega sia la Fulgor sia Salvemini, è un po' l'epilogo amaro delle ultime due stagioni, quindi questa sete di rivalse da parte di alcuni giocatori, da parte del coach. Se fossimo stati superstiziosi non l'avremmo preso. Io posso soltanto dire che Giorgio è un grande professionista e la società ha deciso di prenderlo e quando una società decide di prendere e contratualizzare un tecnico vuol dire che crede fortemente nel suo operato e che ha visto nella carriera e nelle attitudini di Salvemini l'allenatore che poteva fare a casa nostra. È un allenatore, è un organizzatore importante, non lascia, non trascura assolutamente niente sia sotto il punto di vista tecnico che sotto punto di vista organizzativo, è anche responsabile di tutto il progetto tecnico delle giovanili e è una persona disponibile, è una persona che ama il confronto, non è una persona che viaggia a tronfio del suo sapere, ma è una persona che giornalmente si confronta con i suoi collaboratori e con noi dirigenti. Perciò è una persona equilibrata, una persona che ama il proprio mestiere e siamo contenti che sia lui a guidare la Fulgor 2019-2020. Poi ancora una cosa Marco, poi tornando sul discorso anche di sponsor, che è questa. Michele, quanti anni hai che fai il direttore sportivo? 20 anni oramai alla Fulgor. Marco sei da quest'anno presidente, cosa ha cambiato per te nei rapporti, prima dici con la squadra, no? Prima ero sugli spalti, ma certe dinamiche di spogliatoio non erano mie, adesso anche quelle invece sono cambiate, no? Per forza. Ti tocca andare nello spogliatoio a parlare con la squadra, ti piace? Abbiamo avuto proprio un episodio di questo tipo durante l'amichevole con San Giorgio che abbiamo vinto sabato scorso e Michele mi ha invitato, io stavo andando come al solito tranquillo a sedermi sugli spalti, come mi pare giusto che sia, e invece Michele mi ha invitato a sedermi a bordo campo con la squadra. Cito questo banalissimo episodio per dire che dopo tanti anni che ho fatto il mestiere del tifoso, magari devo abituarmi a svolgere un ruolo diverso, ecco, è una cosa che al momento non mi viene estremamente naturale, però mi devo abituare a questa situazione che poi saranno anche gli aspetti positivi del mio ruolo e della responsabilità che mi sono preso. Però dopo tanti anni che faccio quello mi devo abituare un pochino. È più facile fare il sindaco o fare il presidente di una società sportiva? È una domandona. Credo che fare il presidente della società sportiva hai un impatto, non controllabile da te sui giocatori come va la partita, mentre fare il sindaco hai più possibilità di cambiare la realtà in base alla tua azione, alle tue capacità, alla tua voglia di fare. Se quella serata i giocatori ad esempio sono sfortunati, la palla non entra e tu sei lì, non è che puoi agire in maniera puntuale, ecco, e quindi magari più frustrazione però non lo so, un'idea di questo tipo, ecco, magari potrebbe scendere in campo anche Padulazzi. Burlotto di sicuro a fare tiri liberi. Marco, te la cavi bene a tirare libero? Tra le poche cose che sapevo fare quando giocavo a basket, una era tirare i liberi. 90% dalla lunetta. Chiudiamo con questo perché facciamo riferimento al pubblico, alla campagna abbonamenti che sta andando molto bene, agli sponsor, Marco so che ci sarà, e tra l'altro non so se è stata invitata anche il sindaco che ci sarà, ci sarà una cena il 9 di ottobre per veicolare l'immagine della Paffoni, Fulgor Basket, per ringraziare chi dà una mano e anche per stimolare eventuali nuovi investitori. Anche dal punto di vista di risposto direi che comunque le risposte sono state positive ad oggi, al 25-24 di settembre. Allora, ti ringrazio di questa domanda che mi dà la possibilità di dire due cose. Una riguarda il pubblico. Potete immaginare che è un impegno economico estremamente rilevante tenere in piedi una società di questo tipo con queste ambizioni, però senza il pubblico che comunque rappresenta una frazione minima del nostro budget. Però abbiamo veramente bisogno delle persone che vengano al palazzetto a sostenerci, che esposino il progetto. Io lo dico sempre, il sindaco mi ha un po' anticipato e mi ero preparato questa risposta, perché è una cosa che dico sovente. Cosa c'è di meglio da fare al sabato sera che andare al Palabattisti a vedere il basket. Il basket a questo livello, al livello che offriamo noi. E lo dico sovente, penso di non offendere nessuno se dico, è il miglior spettacolo sportivo della provincia. Di gran lunga quello più visto dal pubblico, quello più ambizioso a livello federale di categoria. E quindi veramente invito tutti, venite a vederci perché è un posto tranquillo, sicuro, al caldo, in inverno. Sono due ore veramente di puro divertimento. Questo per quanto riguarda il pubblico. Per quanto riguarda gli sponsor, sono stato assorbito da tali e tante incombenze in questi due o tre mesi che sinceramente non ho dedicato il tempo che era necessario a incontrare sponsor. Tanti mi sollecitano ad andare a parlare con persone veramente, pur prendendomi veramente pochissimi giorni di vacanza in quest'estate, non ho potuto fare tutto quello che volevo. Intendo dedicarci del tempo adesso. Facciamo questa prima, diciamo, evento il 9 di ottobre, che è un po' una festicciola tra di noi per ringraziare quelli che ci hanno sostenuto fino adesso e per, come hai detto tu, diciamo, porre le basi per attirare nuovi nuovi sponsor e ne abbiamo veramente bisogno. Perfetto, io ringrazio il Presidente. Grazie Presidente. Grazie. Grazie a Michele Burlotto. Grazie a voi. Grazie a padrone di casa, Sindaco. Grazie Sindaco. Grazie, ci vediamo sabato. Ci vediamo assolutamente sabato alle 21. Vi lascio con la presentazione ufficiale, noi ti faceva prima riferimento Michele, la nuova realtà del basket a Domodossola con l'intervista al Presidente Santopolo. Baschettando torna martedì prossimo, come sempre, alle 20.35. È una stagione molto importante quella che sta per iniziare per la cestistica perché per prima volta la tua squadra è l'unica realtà di pallacanestro a Domodossola. Che stagione sarà? Sarà una stagione speciale, sicuramente perché abbiamo sviluppato una società che possa essere all'altezza della gestione di settore giovanile mini basket, gestendo 5 gruppi mini basket e 4 squadre under e oltre alla prima squadra in Serie D. Siamo molto entusiasti e responsabilizzati da questi nuovi impegni. Una squadra in Serie D che arriva da un'ottima stagione. Come state costruendo l'annata che ricomincerà breve? La stagione la stiamo costruendo già da diversi mesi. Abbiamo riconfermato tutto il roster. Abbiamo sostituito alcuni ragazzi giovani che hanno scelto di andare all'università e quindi per motivi di studio non potranno essere presenti alle sedute di allenamento e alla stagione, ma li abbiamo integrati sempre con ragazzi domesi e quindi stiamo andando bene. La preparazione e le prime amichevoli danno buoni segnali. Coach Marchi è riconfermatissimo già da dicembre dell'anno scorso. È molto soddisfatto. Stiamo continuando a lavorare. Abbiamo inserito un nuovo ragazzo nel reparto lunghi, un ragazzo giovane, un under. Siamo molto soddisfatti e stiamo ancora lavorando per migliorare il nostro roster. Lo scorso anno play-off, quest'anno? Altrettanto. Altrettanto campionato diverso, sicuramente più equilibrato, ma con una formula anche particolare legata ai play-off e quindi bisognerà altrettanto impegnarsi come l'anno scorso e presentarsi pronti ai blocchi di partenza. Chiedo un'ultimissima cosa. Con l'ampiamento del progetto del settore giovanile c'è stato anche un ampliamento del gruppo dirigente. Sì, assolutamente sì. Era fondamentale per noi e per il movimento domese ricostruire o meglio migliorare il potenziale e tornare a far sviluppare il settore giovanile al mini basket. Per fare questo abbiamo dovuto migliorare e aumentare il nostro organico. Abbiamo inserito quattro responsabilità di settore, due per l'aspetto tecnico e due per l'aspetto organizzativo divisi in mini basket nel settore giovanile e sono molto contento e orgoglioso di questa nuova cestistica partecipata da queste nuove figure, da questi nuovi ragazzi che sono molto entusiasti insieme a noi e insieme a me condividono l'entusiasmo per Domodossola, per la cestistica, per la pallacanestra. Ciao! Grazie a tutti.